Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Gioca con me a giochi per bambini allora oggi vi presento una carinissima sirenetta era un po' di tempo che non vedevamo delle dolci e belle sirenette questa è decisamente molto molto carina guardate che bel diadema in testa e come vedete è anche luccicosa piena di glitter nella coda addirittura anche la spazzolina glitterata e questi capelli rosa viola con mesh viola molto molto carina si chiama Shimmer Shine anzi Shimmer and Shine ed è proprio la sirenetta magica ora scopriremo perché perché chiaramente vi può fare compagnia quando fate il bagnetto perché? perché la sua particolarità sono proprio i capelli infatti questi capelli bellissimi molto lunghi che dicevamo prima cambiano colore nell'acqua è della Fisher Price e ora lo vediamo chiaramente insieme predispongo tutto perché voglio vedere anche io il cambiamento eccola qui molto molto carina la testa molto pesante ragazze davvero molto pesante perché è in plastica mentre i capelli vedete sono attaccati quelli attaccati alla testa scusate sono sempre in plastica mentre la coda diciamo è con i capelli che cambiano colore quindi ho preparato la vaschetta con l'acqua per vedere questa trasformazione e vedremo insomma cosa succede soprattutto se cambia colore e in che colore intanto guardiamola un po' qui nel suo outfit vedete che ha dei bracciali dorati ai polsi ha una specie di toppettino lilla e questa coda lunga viola super glitterata alla cui fine c'è un'altra coda molto carina che in realtà come vedete anche questa è super colorata e super glitterata è un pochino diversa dalla coda dal colore della coda vedete però molto molto interessante e devo dire che il diadema sulla testa è uguale anche alla collana che lei ha al collo allora ragazzi io sono prontissima per questo esperimento quindi direi di metterle i capelli in pasta in realtà in acqua mettiamo subito i capelli in acqua per vedere un po' come avverrà la trasformazione e che colore appunto diventeranno questi capelli qua c'è un cavalluccio marino che può farvi anche da compagnia perché no? mentre fate il bagnetto sempre più divertente e il pettinino quindi provvediamo a pettinare la sua stupenda coda e voilà e poi si mette dentro aspettiamo qualche minuto e vediamo la trasformazione allora forse non so se riuscite a vedere bene comunque la trasformazione è in atto in realtà la trasformazione riguarda le mesh della nostra sirenetta che prima erano viola se vi ricordate lilla comunque ora sono azzurro chiaro 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 e chiaramente lasciate asciugare vi verranno poi di nuovo lilla quindi molto carino questo effetto e devo dire che l'azzurro chiaro mi piace tantissimo molto più del lilla quindi quasi quasi la lascerai perennemente nell'acqua in modo tale da avere sempre questo colore comunque anche voi fatemi sapere cosa ne pensate se la pensate come me oppure vi piaceva più il lilla sicuramente comunque una bella bambola con cui giocare nell'acqua mentre siamo a fare il bagnetto per voi o per le vostre sorelline più piccole insomma chi lo sa fatemi sapere cosa ne pensate e magari qualcuno di voi la conosceva già questa shimmer and shine questa sirenetta e io vi mando un bacio vi do chiaramente appuntamento alla prossima con tante altre novità ciao ciao